Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video Oggi uscire un po' di casa però con le dovute precauzioni Restando a meno di 500 metri da casa Quindi con la mascherina andiamo Ok, andiamo Poi si vede bene? No, si vede contro luce Contro luce? No va bene, io metto io così Eccomi qua, sono uscito a fuori del gatto Ma che c'è? Ma ora vado fino a là Si, c'è sempre questo paesaggio bello Ma ora vado fino a là E mi metto qua, aspetto che arrivo Devo arrivare tra poco Le montagne Aspetto qua Ah si, stiamo arrivando Metto più a lato la bici Dai, ora provo io Eh, andiamo a spendere Eh, ora me lo tolto qua, non c'è nessuno Ah, lì Ah, lì Mica c'è bagnato, no Questo lo appendo qua Lo appendo qua Lo appendo qua, dai Vabbè, vado a provare A presto, lì Ma ora vado Ma ora vado Ah, lì Vabbè, vado a fare ma va dando un po' di tempo Grazie a tutti. 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 Voglio un po' di respirare un po' di aria. Poi dopo arrivo qua. Io sono qua. Poi devo aspettare che arrivi. Ancora non è arrivato. Ma ora aspetto. Va bene. Intanto andiamo a vedere i cavalli. ecco qua. Ecco qua i cavalli. Vedete i cavalli. Ah no alcuni mi stanno pure guardando. qua gli asni ci stanno. Qua gli asni ci stanno. Ma io stiamo qua. Ma ora la mascherina vuole. Meglio come la leggo qua. qua. Ok ma dovrebbe arrivare. Dovrebbe arrivare Francesco. Guardate qua. Quando arriva mo'. Che cambi ci stanno. Guardate. Guardate. Begli animali eh. Eccolo la sta arrivando sta arrivando. Qua non c'è nessuno qua. Ma la sta arrivando. Belle riprese. Ma dobbiamo aspettare pure che ritorna. Ah forse va la capanna eh. Ma vediamo pure io di andare avanti. Vabbè poi. ah no quello è vero ha detto di andare in un'altra parte quindi vabbè hanno fatto la ripresa noi andiamo pure andando con il quattro parte sempre rimanendo con la nostra bici con la bici vedete sono qua sono qua con la bici sono con la bici guardate qua sta arrivando faccio più a lato ah mamma mia ma penso che facevo un'altra strada in mezzo non è ritornata ma ma vieni qua vieni qua andiamo andiamo vabbè è troppo veloce lui faccio malapena 20 km reale qua ah quanta polvere c'è qua qua c'è tanta polvere qua c'è tanta polvere perciò meno male che c'ho la mascherina ora va bene manteniamola per un altro poco poi non ce la faccio stare però se devo mantenere per ora ok va bene e se francesco sono andato ora sono qua un altro poco sto arrivando a casa qua c'è meno polvere per me non me la manco ancora io c'ho la mascherina ma lui c'ho il casco pure prima quando l'ho guidata a fare manovra è pesante pesata 140 kg quella moto più io sopra 70 kg e quindi andiamo a fare un altro poco passeggeri ma allora vado fino a quella fine della strada e poi ritorno andiamo qua andiamo qua andiamo qua andiamo qua il respiro giriamo giriamo andiamo qua c'è la buca qua ci vediamo fino alla fine della strada ok eccomi qua sono quasi alla fine della strada ok andiamo in questa buca anche qua c'è un po' di polvere c'è la polvere oh e non c'è questa buca qua c'è un po' di polvere ma rio fin alla fine della strada poi puri da ne ho un po' diete la bana e e e e e e e e ok ok eccomi qua allora sono arrivato alla fine ripeto noi siamo a meno di 500 metri da casa nostra quindi stiamo vicino siamo lontane poi se con la bici si può andare da un culo a me c'è pure la mascherina ora ritorniamo indietro facciamo la stessa strada ci vediamo dopo ma sto ritornando indietro stiamo ancora agli ulipeti qua il campo qua la montagna di di capaccio ma andiamo qua siamo arrivati qua oh ma c'è la discesa mi diverto un poco mannaccio non si rallenta più ok tutto a posto non ce la faccio più ci vediamo dopo siamo quasi arrivate facciate un poco qua un altro po di panorama ok finalmente sono ritornato sono stato con la mascherina per quasi tutto il tempo ma una cosa buona e il fratello c'era il casco quindi poi pure ma non mi avevo messo il casco e ho guidato bene la moto ho fatto anche dei bellissimi montaggi delle bellissime riprese il mio fratello che veniva a tutta velocità non tutta velocità veloce però nella massima velocità di sicuro con quella accelerata poi ho fatto delle riprese agli animali i cavalli gli asini la che c'erano c'erano i campi belli verdi c'era un campo secco però quello lasciamo stare c'era la capanna c'era la montagna di capaccio e poi queste cose qua ho fatto delle belle riprese quindi spero che questo video vi sia piaciuto e grazie per aver dato questo video e noi ci vediamo al prossimo video ciao